Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo salutare uno, due, tre persone, scusate ma ho il fondo e scusate se non vi ho salutato prima, cioè tanto tempo fa, ma tipo io mi ero scordata. No davvero scusate tantissimo, mi dispiace tanto, per favore perdonatemi, scusate. Infatti forse inventerò un hashtag perché così non andiamo da nessuna parte, perché io mi scordo chi vuole che io saluti. Comunque iniziamo il video delle persone che vogliono essere salutate, l'ho scritto qui sopra, infatti qui vabbè è il video 5 cose che hanno, 5 cose che hanno, andate da guardare perché credo che sia un po' divertente. Allora, io saluto Angel Anton, e comunque se non capite, se non sapete come si scrive ve lo lascio nell'infobox, vi dico come si scrive. Chi non sa che cosa è l'infobox, non so se succede così in tutti i telefoni, vi date il titolo e vi si viene l'infobox, oppure la freccetta in basso, io piso la freccetta ma anche il titolo è la stessa cosa. Allora, qui mi è Angel Anton, poi Kri, Kri 123, chakri, e parditta adussa, non so come si pronuncia, parditta adussa, con l'h. Scusami tantissimo ma non so pronunciare il donore Comunque ricapitolando Angel Anton Qui 123 Ciao a tutti Io vi sto salutando questo video Quindi guardatelo E io vi mando un bacio Ciao